Durante la campagna elettorale per la elezione del Parlamento europeo, terminata da poco con il rinnovo dei membri del Parlamento, abbiamo assistito a vari interventi per quanto riguarda il rapporto fra Stati nazionali e Unione europea. Una delle accuse è che gli Stati nazionali non sono coinvolti sufficientemente e certamente questo può essere possibile, si può fare di più. È necessario peraltro riconoscere un fatto nella situazione attuale che purtroppo non è stato sovente evidenziato. Va detto che quando la Commissione europea, che è l'unica istituzione che ha la facoltà di promuovere iniziative legislative, promuove un progetto di legge, chiamiamo progetto di legge, normalmente si parla di regolamento di direttive, lo presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, cioè al Consiglio di Ministri, poi lo porta anche al Comitato delle Regioni e al Comitato Economico Sociale. Nel Comitato delle Regioni sono rappresentate tutte le istituzioni subnazionali, regioni, province, ci sono anche le province autonome e poi anche i municipi. Poi c'è il Comitato Economico Sociale nel quale sono rappresentate tutte le realtà della società civile, rappresentanti dei lavoratori, degli imprenditori eccetera. Ma va detto, non si sa forse a sufficienza, che le iniziative legislative vengono mandate anche a tutti i Parlamenti nazionali dei Paesi membri dell'Unione Europea. Per cui loro possono esaminare le proposte che vengono fatte dalla Commissione e questo perché i Parlamenti nazionali sono stati riconosciuti come istituzioni per osservare che venga rispettato il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità. Il principio di sussidiarietà significa che se una cosa può essere fatta adeguatamente a livello nazionale, in questo caso non è necessario che intervenga l'Unione Europea. Proporzionalità che deve esserci una proporzione fra la norma che viene approvata e ciò che deve essere fatto. Per cui i Parlamenti nazionali possono evidentemente fare delle osservazioni, non hanno poi il potere decisionale finale, questo spetta al Parlamento e al Consiglio, Consiglio dei Ministri, ma possono fare delle osservazioni. Pertanto se le istituzioni europee a Bruxelles o a Strasburgo vedono che alcuni Parlamenti fanno delle osservazioni e le ritengono evidentemente ragionevoli, non possono indubbiamente ignorarle. Va detto che questa partecipazione dei Parlamenti nazionali è precisata nel Trattato sull'Unione Europea e specificata in maniera particolarmente dettagliata in un protocollo annesso al Trattato, il protocollo numero uno. Per cui si tratta, se i parlamentari nazionali non si prendono il tempo di leggere le proposte che vengono da Bruxelles, non si può imputare tutto a Bruxelles, bisogna anche fare un po' di mia colpa.